Un onore, un piacere, soprattutto anche per il tipo di letteratura che porta, che è quella della poesia, che ad oggi non è sempre facile trovare e soprattutto così bella e così piena di emozioni, di vite importanti. Quindi ogni tanto è giusto fermarsi e parlare di poesia e questa sera lo facciamo grazie a Sandra. Passo la parola a Ades che presenta Sandra. Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Molto onorata di essere qui alla Backup 2021 e presentare la compagna e sorella di viaggio di storie vissute insieme qui a Milano, Ciamaca, Sandra, Madu. Ci tengo a presentarla, a darvi due linee prima che lei performerà la sua poesia e ci racconterà il suo, la sua prima raccolta di poesie e di vuoti. Eh, raccontandovi un po' chi è. Allora, Sandra è una ragazza affrodiscendente come me, nasce in Nigeria il 14 ottobre 97, quindi è fra le giovanissime autrici italiane, affrodiscendenti, complimenti. E si appassiona la poesia sin da piccolissima, sin da piccolissima scopre che il suo linguaggio di comunicazione, che meglio le riesce per esprimere le sue poesie, le sue emozioni, ciò che più sente, è appunto il linguaggio poetico. Quindi, eh, oltre ad essere una studentessa di lingua e letteratura, è laureata all'Università Carlo Bo di Urbino e adesso è all'Università Statale di Milano, continua con il suo viaggio, eh, raccontando la sua vita, le vicissitudini da italiana di seconda generazione, o meglio, cosiddette seconde generazione. Ed è proprio qui che inizia il il primo incespicamento, il primo inceppo su questo termine che abbiamo vissuto assieme, perché Sandra, oltre ad essere poetessa, è anche drammaturga e insieme abbiamo avuto il piacere di partecipare ad un laboratorio di drammaturgia dedicato a voci ad offrodiscendenti e che è chiamato proprio Seconda Nessuna, proprio perché noi disconosciamo questo termine di seconde generazioni che è stato affibbiato a noi figlie di migranti, ma che siamo nate e cresciute comunque in Italia, perché noi effettivamente ci riteniamo seconde a nessuno, che è un termine, seconde generazioni, come dicevo prima, affibbiato da giornalisti, dai primi che hanno voluto descriverci, senza aspettare, senza chiedere a noi altri, a noi altri, come come ci descriviamo, come come possiamo definirci, eccetera. Quindi per farci riconoscere negli ambienti più ampi, culturali e non solo, dobbiamo forzatamente utilizzare questo termine che non ci piace. Ed è proprio così che abbiamo partecipato insieme a questo laboratorio di drammaturgia titolato Seconda Nessuno, proprio perché il termine stesso, seconde generazioni, è errato, è inadeguato a descriverci. Anche perché tecnicamente, seconde generazioni, perché noi siamo figlie di migranti, cresciuti in Italia, culturalmente, principalmente italiane, ma anche metice, anche miste con la nostra cultura di origine. Sandra nigeriana, io di origine eritrea. Quello che dicevo delle erroneità di questo termine è il fatto che tecnicamente, seconde generazioni, non significa niente, non ci descrive. Proprio perché secondo che cosa? Seconde generazioni di migranti? No, noi non siamo migranti, noi siamo o cresciute qui, o nate qui, o comunque tutta la nostra vita, la nostra cultura, principalmente italiana. Quindi questo termine non ci descrive. Seconde cosa? Siamo seconde ai nostri genitori, forse, sì. Ma perché seconde generazioni? Noi, di nuovo, siamo seconde a nessuno. Inoltre, l'importanza di avere un'autrice afrodiscellente, che poi si occupa di poesia, che come ci diceva Francesca, purtroppo è un ambito letterario poco investigato e poco letto, forse, ultimamente. Il fatto che, essendo noi figlie di migranti, ci descriviamo principalmente, almeno io e Sandra, avendo le origine nello stesso continente, che poi è la terra madre per tutti noi, ci descriviamo italiane e afrodiscendenti. E nella letteratura, nella letteratura italiana, quello che, con cui ci stiamo scontrando oggi, è il fatto che tutto ciò che oggigiorno è scritto da persone italiane non bianche, venga messo e sottotitolato come letteratura migrante. E noi non ci stiamo, perché non siamo migranti. Ci sono stati un sacco di scrittori e letterati di origine migrante, Pap Kuma, menzionavamo prima, che ci hanno un po' aperto la strada. Ma noi, a differenza di un autore come Pap Kuma, non condividiamo il fatto di aver vissuto in un altro paese, nel nostro paese di origine. Noi siamo cresciute qua, siamo italiane, anche se qualcuno non lo vuole riconoscere. Siamo italiane e siamo afrodiscendenti. E quindi il nostro punto nel portare avanti la letteratura da persone, figlie di migranti, è essere conosciute come letteratura italiana, prima di tutto, e afrodiscendente. È in questo filone che abbiamo Sandra Madu, che ci presentano i divoti. Sandra Madu, come vi dicevo, ciamacca Sandra Madu, che per gli amici è Sandra qui in Italia, ci presenta questo libro, che è la sua prima raccolta di poesie, che è stata realizzata in seguito e grazie al fatto che abbia vinto il premio Ponte di Parole, premio di letteratura poetica, premio di parole, che le ha permesso di poter pubblicare questo libro, che trovate alla libreria Don Durito qui. Abbiamo un sacco di coppie per piacere dopo la sua presentazione, ma anche prima, pensando, seguendo le mie indicazioni, vi consiglio di andare a raccogliere la vostra copia, dato che non ce ne sono molte. Ci racconterà un po' il suo viaggio, la sua vita. Sandra negli ultimi anni ha lavorato come mediatrice culturale alla questura di Monza. Quindi la sua poesia nasce oltre che dal suo vissuto, dal suo intreccio di culture, dal suo capire cos'è l'identità, l'appartenenza in un paese come l'Italia oggi, nasce anche dalla sua esperienza di vissuto in questa posizione lavorativa alla questura di Monza, dove si è dovuta scontrare con il suo essere afrodescendente italiana e i nuovi richiedenti asilo, richiedenti permessi di soggiorno che ci sono. Quindi in questo viaggio, che si chiama Niddi Vuoti, Sandra Madu ci racconterà cosa è stata per lei l'identità, l'appartenenza in questo viaggio. Lascio la parola a Sandra. Allora, come le ha create. Allora, Sandra. Grazie mille, adesso, grazie. Allora, immigrazione. In Italia si parla di immigrazione via mare come se fosse una causa, come se fosse la causa del nostro malessere, della nostra povertà. Ma l'immigrazione non è una causa, è una conseguenza. L'immigrazione via mare, soprattutto, è una conseguenza ai sopprusi, ai furti che vengono attuati in Africa. Per mano di chi, oltre mare, dice di voler aiutare l'Africa. Aiutare. Depredare. Rubare vuol dire aiutare, no? Io inizierei leggendo una poesia, intitolata In Pace, a pagina 21 di Nidi Vuoti. In pace. Cara Africa, fingono di voler liberarti, ma ti depredano di tutto. A volte con l'aiuto dei tuoi stessi figli. Mia Africa, come glielo diciamo? Come diciamo a loro che vuoi solo essere lasciata in pace? Alcuni affermeranno che lo schiavismo è finito, il razzismo non esiste. Ma ditelo a chi percorre ore e ore nei barconi. Ditelo a chi fugge da guerre causate da mani estranei, che poi vengono persi nelle gabbie in Libia, a cui non viene riconosciuto nessun diritto. Ditelo a chi vive nei campi profughi e a cui viene relegato una sottospecie di esistenza umana. Ditelo a chi vive il razzismo, che il razzismo non esiste. Domanda. Siete d'accordo che chi chiede asilo, chi chiede rifugio in Italia ha il diritto di essere protetto? Nel frattempo i morti in mare nel Mediterraneo si moltiplicano. Il mare che noi lo vediamo azzurro, ma in realtà è rosso sangue. Leggo Orfano a pagina 26. Orfano. Ora, piccolo orfano, in cerca di speranza, fuggi dalla Somalia e dalla tortuosa Libia, dove vedi cadere la vita di chi ti ha generato. Preghi per una casa, dove di giorno sognare una vita, mentre con la mano al petto ti riscaldi e ti nutri dell'amore di una madre persa. Leggo Vulnerabili Vita. Vulnerabili Vita, pagina 28. Un lungo viaggio soffocato dalla tratta degli umani, trafficato da nomadi e da dimenticati. Il naufragare di vulnerabili vita. Chi sopravvive sente ancora il sapore del sale. Infatti, a fronte dei tanti morti identificati e non, c'è chi sopravvive, c'è chi resiste, c'è chi si crea la nuova vita. E c'è chi purtroppo in Italia poi muore per mano della discriminazione, del razzismo. Oggi siamo alla voce di Abba. Chi emigra in un paese e risiede lì per molto tempo, probabilmente avrà anche dei figli. Ai figli che nascono, crescono qui in Italia da genitori immigrati, cosiddetti, cioè chi li chiama seconde generazioni, la cittadinanza non dovrebbe essere regalata, non dovrebbe essere un regalo, ma deve essere riconosciuta. Perché è così che deve essere. Chi nasce e cresce in Italia, è ovvio che dovresti ricevere la cittadinanza, però non è ovvio per molti. Perché non si parla di un pezzo di carta che non ha nessun significato. Si parla del diritto di partecipare a formazione all'estero, del diritto di partecipare all'Erasmus, del diritto di votare, di scegliere chi si vuole rappresentare il paese in cui si vive, in cui si studia, in cui si lavora. Beh, diciamo, poter partecipare anche ai concorsi pubblici, perché, sapete, in Italia non c'è tutta questa rappresentazione nera, quindi poter anche partecipare ai concorsi pubblici hai bisogno della cittadinanza, se non hai la cittadinanza non puoi neanche partecipare, se non partecipi non vedi i neri nel settore pubblico. Leggo Erranza, pagina 42. Erranza. Deambulate in un pomeriggio d'estate, spiati dalla luna voyeristica, che vede a girarvi fra gli esclusi dell'Italia illuminata e parziale, la stessa luna che ci vede plasmati dalle stranetà invasi, da quegli sguardi bovini e resi italiani per l'origine altra, senza fissa dimora e senza meta. Sotto un'identica luna di un pastore errante dell'Asia, siamo protetti dal fiato sterile della gente, affinché esso non sciupi l'ardore del brivido che desta il nostro cuore. Cari italiani, è tempo di fiorire. Il mio fiore preferito porta il nostro nome. Patria, pagina 45, dedicata a un poeta che mi piace molto, Giovanni Pascoli. Patria, caro Giovanni, voi col magone sognaste la vostra cara patria d'infanzia idilliaca. Il giorno d'estate in cui palpitava d'amore la trebbiatrice come il vostro cuore. Ed io, caro Giovanni, in bilico sogno una mia patria della testa, mia e solo mia, a cui appartenere. Né la patria del mio primo respiro, né la patria del mio arrivo. Caro Giovanni, tenetemi la mano. Se insieme capovolti camminiamo in basso via l'infinito cielo come abisso. Lo so, caro Giovanni, disincantati siamo spaisati, straniere stranei, forestieri esuli, appolidi, alienati. Nostri sono i pianti e i capi chini di coloro che la cieca li circonda. Non sono riconosciuti. come ha detto adesso all'inizio, lavoro in questura e in coda all'ufficio immigrazione incontro persone che provengono da ogni estazione sociale, incontro uomini, donne, bambini, mogli, mariti, provengono dalla Nigeria, dalla Guinea, dall'Eritrea, provengono da ogni parte del mondo. E mi fanno tantissime domande che ho imparato a farne anch'io. Quindi un giorno mi sono deciso di porre a queste persone che ho incontrato e che incontro ancora cos'è la cosa più importante per te e per la tua vita. Amore, futuro, famiglia, casa, rifugio. Sono state in sintesi le risposte che ho ricevuto. E questo mi ha permesso di trovare un ponte tra le persone, tra gli immigrati che sono qui da poco, che sono qui da molto e tra gli italiani che qui sono a casa. quella quella volontà di avere l'amore per gli affetti, per i propri cari, per la persona amata. La voglia di vivere in una casa, di avere un rifugio, di essere protetti. Ed è questo che mi ha permesso di donare questo alfabeto diciamo del mondo che si crea attraverso le relazioni e a dare forma al libro. Ed è anche questo che mi ha permesso di concludere il libro con poesie dedicate all'amore. Allora ho scritto poesie d'amore come Meno Estranea, pagina 70. Meno Estranea. Mi sentì Meno Estranea quel giorno. Eravamo soli, seduti in riva al mare, al chiaro di luna, coccolati dalla brezza, legati in un abbraccio a parlare della mia dubbice stranetà che mi divideva dal mio luogo di nascita a causa di un'estranea lingua e che mi attendeva in Italia in cui Estranea era la mia apparenza. Gli parlai dell'odio e il sospetto che vissi e la compassione ben più subdola e dolorosa. Lui mi disse con un filo di voce che ero immune agli sguardi altrui, che potevo scegliere se sentirmi circondata dall'estraneità o inondata dalla familiarità, se essere un risultato del passato o una delle molteplici cause del futuro. Mi prego di liberarmi e di non far dipendere più il mio benessere dalla capacità d'accoglienza altrui, di riconoscere il luogo dal quale venni per poi allontanarmi e andare oltre alla ricerca di una casa, una mia casa. Poi mi accarezzò, mi tenne la mano e sentii tutto, il mare, la terra, le stelle, il vento e un cuore nuovo che batteva. Il mondo che vedi era il mio corpo caldo accanto al suo che mi illuminava. Mi ritrovai e mi accorsi che non ero estranea a me stessa. Sufficiente era la mia interiore identità. Mi sentii di essere amata anch'io, di avere un mondo tutto mio e con il suo ero al completo. L'amavo così tanto che dimenticai il mondo esterno, quel mondo superficiale che creava solo confine e barriere tra le persone. I nostri mondi creavano ponti che si univano come un unico nido. Casa è chi ci vuole bene, mi disse. almeno lei rende meno lontana la lontananza e meno estranea l'estranità. Grazie. grazie, 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 grazie mille Siamaka, Sandra, Madu. Un applauso per Sandra, per piacere. è stato molto toccante ascoltarti, ascoltare le tue poesie. Grazie per essere venuta e grazie per aver condiviso cosa è per te vivere questa doppia identità e e allo stesso tempo lavorare con chi cerca di appartenere come stiamo cercando anche noi in qualche modo pur rendendoci conto che la nostra appartenenza non può essere unica ma che è duplice o anzi molteplice perché siamo fatte di tutto tutto quello che viviamo tutto quello che abbiamo modo di sperimentare e vivere e quindi grazie ancora Sandra, Siamaka, Madu. Grazie. Nidi vuoti lo trovate alla libreria Don Durito lì. Grazie e la serata continua con Dischi Volanti Special Edition Dischi Volanti è un progetto della libreria Don Durito di ripresa e rivalutazione del del vinile come oggetto del vinile come musica dello scratching del DJ quindi ci saranno in console DJ Radio I am DJ Nino Maple Juice Feel Good un intermezzo di freestyle con Bielan K e una serata che c'è tutte le settimane di martedì alla libreria Don Durito seguiteci sui social e buona serata e grazie ancora Siamaka, Sandra, Madu e Adtes grazie 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 a tutti.